L'incontro è stato molto interessante, fare l'intervista a Michela Girò, soprattutto davanti ai ragazzi che da un certo punto alla fine si sono messi a applaudire tutti insieme, mi è sembrato di essere in un flash mob, è stato scioccante, questa è una delle cose che mi porto... Sì, non essendo abituati a calcare i palchi, l'esperienza del podcast dal vivo, capisci di stare facendo qualcosa non solo con l'ospite ma anche con il pubblico. Esatto, esistono le persone con cui parliamo, poter avere questo tipo di scambio in un luogo come Giffoni è una bella occasione proprio perché sarebbe difficile organizzare una cosa del genere ed è comodo che venga organizzata e poter partecipare. Cioè è comodo che l'abbia fatto il Giffoni per noi, perché altrimenti mettere in piedi una cosa del genere non deve essere facile. Quindi questo sicuro è un privilegio. Sì, è anche un bel punto di contatto con una realtà che esiste da tanto tempo e che... Tiro a indovinare, 54 anni? L'importanza che ha avere questo tipo di spazi all'interno del Giffoni? Beh, a me viene da pensare che le basi sono realtà che si traducono in esperienze e il fatto che un territorio si possa confrontare, specie per quelli più giovani, a questi spazi di aggregazione che ruotano attorno al valore anche della cultura, è impagabile. Cioè io ho presente le esperienze che ho fatto nei festival durante la mia infanzia, mi sono rimaste... I rave, ti immagini? Sì, esatto, fondamentalmente. Soprattutto mi sembra un festival così importante da aver dato il nome alla città. Questo è stupefacente. È una battuta, ovviamente, è una barzelletta. Una barzelletta questa che ho detto. Avremmo potuto dire di tutto, abbiamo letteralmente detto tutto ciò che non c'eravamo preparati di dire. Su questo direi no regrets, perché noi ogni volta che affrontiamo un discorso e una chiacchiera con un ospite, ci facciamo una bella scalettina, Martin fa una bella scalettina. E nessuno non la cagliamo. Andiamo totalmente a braccio e si vede, perché a un certo punto nella mia testa c'era solo tipo la mortadella e continuo a buttare sul tavolo il discorso mortadella. Nonostante si parlasse di storia dell'arte, io dicevo mortadella. Speravo di portare un richiamo sul tema del Giffoni di quest'anno, quindi l'illusione della distanza. E non l'abbiamo tutta l'ambito. E non abbiamo neanche l'ambito. L'interpretazione all'illusione della distanza, di come non si è solo vicini a quelle persone distanti, ma che senti parte del tuo gruppo nel momento nel quale hanno dei momenti di realizzazione. Quindi dici l'Italia vince al mondiale, sono vicino a questa cosa. Ma sei vicino anche agli ultimi, a chi soffre e si trova dall'altra parte del mondo, perché siamo tutto sommato parte di un insieme unico, gli abitanti di questa terra. Noi umani, non noi e loro. Esatto, quindi il ponte che si poteva fare con Michela era quello della comicità che ruolo ha nell'avvicinarti, nella prospettiva di chi apparentemente è lontano, ma che un po' vive dentro di te. Restare un po'. Volevo dirla esattamente così. Eh, lo so. Giffoni è stato giovine e sereno. Cioè, come non posso dire, tu non esisti in questo momento, non posso dire. Però sembra un luogo safe, proprio. Il festival di Giffoni, Giffoni, sembra proprio una situazione easy, tranquilla, non tesa, non stressante. Quindi questo mi porta a casa. Un po' di chill. Chilfoni. Chilfoni. Cosa ti porti a casa? Sì, no, tutto sommato sarei d'accordo con te nel dire giovane. Perché ho visto molte persone e nessuna era vecchia. Sì. Ragazzi di Giffoni, pensate alle cose che dite prima di dirle. Pensa, prima di parlare, pensa. Prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa. Che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto. Un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ciao. Ragazzi e ragazze di Giffoni. È stato un piacere incontrarvi. Mi sono divertito tantissimo. Vi ho visti un sacco carichi. E continuate così. Anche fuori dal Giffoni. Mi auguro. Grazie. Ho sinato progno.